Il mistero dei monoliti che spuntano ovunque dagli Stati Uniti all'Europa si avvia una soluzione. Un collettivo di artisti rivendica infatti la paternità di questa trovata pubblicitaria. Anna Paola Ricci. Il monolite dell'Ujuta ha finalmente una spiegazione e non sono gli alieni. Lo ha rivendicato un collettivo che su Instagram si firma come il più famoso artista del 2020. Il collettivo ha pubblicato foto e video del progetto e della lavorazione con uno degli autori mascherato e la scritta scherzosa «Volete dire che non erano alieni?» Accenno ironico alle teorie New Age che avevano scomodato gli UFO con le suggestioni che rimandavano al monolite di 2001, Odissea nello spazio. Un enigma oggi acquistabile per 45.000 dollari, spiega il gruppo di artisti che finora non erano tra i più conosciuti ma adesso un posto al sole se lo sono conquistato e di certo hanno lanciato una sfida planetaria perché dopo il primo avvistamento nel deserto dell'Ujuta altri monoliti sono apparsi in Romania, due in California, uno nei Paesi Bassi, sull'isola di White e l'ultimo in Pennsylvania. Sparirà anche questo? Un altro collettivo lo rivendicherà? Fa tutto parte di una stessa trovata pubblicitaria che lega artisti sparsi in tutto il mondo? Si attendono sviluppi. Premiati in Francia i migliori corsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.